Abbiamo gli uomini a posto dietro Americanism, Thunderlight, Rally nelle prime posizioni Americanism, Thunderlight, Cool Climate e Rally poi Capitan Renaccio, colpo basso Grur all'interno Thunderlight è in vantaggio a qualche metodo alla corda perché alla corda c'è Americanism dietro i due Cool Climate con all'esterno Rally che ha nella scia Capitan Renaccio poi uno svelto Stundaio precede Grur e colpo basso Fantastic Secret e Maeva di Breme in coda Diabolo James e Paledras sulla curva Thunderlight, Americanism, Rally in evidenza, Stundaio, Capitan Renaccio e Cool Climate colpo basso Grur, Paledras, Diabolo James in coda a Maeva e Fantastic Secret in corda con Americanism che sposta per andare su Thunderlight in anticipo lungo sul rally pedinato da Capitan Renaccio addirittura scappa Thunderlight da Americanism c'è spazio per Fantastic Secret all'esterno sono prima Rally e poi Capitan Renaccio con questi a lottare Thunderlight, Rally, Capitan Renaccio con Capitan Renaccio che scatta su Thunderlight poi Fantastic Secret vanno a lottare Thunderlight Rally e Capitan Renaccio poi Fantastic Secret prova il recuperone Diabolo James ma è lontano Capitan Renaccio che sta scattando su Thunderlight Rally Stundaio e poi Maeva poi Diabolo James Capitan Renaccio in vantaggio Capitan Renaccio Salvatore Sulas Capitan Renaccio che vince mentre per il secondo e terzo Maeva Di Brehme e Diabolo James con Diabolo James che batte Maeva 13-3-1 quarto rally o Thunderlight ma staremo a vedere 13 Capitan Renaccio e poi 3 Diabolo James uno Maeva e poi per il quarto Rally o Thunderlight è tutto e poi per il quarto è tutto Hangga è tutto Grazie.